Cittadine e cittadini di Ponte d'Ordie, buonasera. Anche nella Rambla il 2014 sta finendo e un anno se ne va. Ma com'è stato il 2014? Piovoso! Ma è stato un anno ricco di iniziative, nonostante l'acqua. L'agnoccata, la sangriata, aperitivi, come se piovesse, la mitica digiunata ed ancora castagnata e porchettata. L'abbiamo mangiato, sì. Ma è stato anche l'anno degli addio. Sì, gli ex carabinieri di Ponte d'Ordie, ora dieci. Ma anche l'anno del benvenuto agli amici che sono arrivati da noi in cerca di fortuna. Benvenuti. L'anno del settantesimo del Circo di Ponte d'Ordie. Birichini, voi la sapete lunga. Ma soprattutto l'anno della Rambla. La mia giunta. Pensavate in molti al mio messaggio di dimissioni. Ma non è così. Comincerò insieme alla mia giunta, che riconfermo in toto, un 2015 all'insegna dell'impegno verso la comunità. Il sindaco confinante ha giocato il jolly con la pista da ghiaccio. Bene. La Rambla rilancerà questa estate con bilici di sabbia, ombrelloni, piscine gonfiabili modello olimpionico. E totale chiusura del senso unico. Caput. Con questo auguro a tutte le cittadine e tutti i cittadini un buon 2015. All'insegna devolimose bene! Bottiglia. Non fanno la... Auguri! Grazie. Grazie a tutti. Grazie.